Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come potete vedere dal piccolo riquadro, questa è una intro, appunto per dirvi che adesso faremo il video che ha come titolo Luna piena in Capricorno. Il 3 luglio arriva la Luna piena in Capricorno e vediamo che cosa porta. Allora, la Luna piena in Capricorno porta sia sfide che ricompense. Le cose saranno difficili, ma la ricompensa sarà adeguata ad esse. Questa Luna è un'opportunità per trovare la disciplina necessaria per raggiungere gli obiettivi che stiamo cercando. Crea i tuoi programmi, spunta gli elementi sulla tua lista di cose da fare. Medita e affronta quei progetti impegnativi che fino ad ora hai sempre rimandato. Questa Luna aiuta e illumina ciò che non funziona più nella nostra vita, donandoci l'opportunità di intensificare e assumerci le responsabilità. Può essere difficile affrontare ciò che non funziona più? Iniziamo ad assumerci le responsabilità della situazione che si è creata. Quando affrontiamo il ruolo che abbiamo svolto è allora che possiamo trovare il coraggio di cambiare le cose per avvicinare la nostra vita a dove vogliamo essere. Perciò questa Luna piena in Capricorno ci dà appunto la possibilità di guardare in modo razionale quello che è le situazioni che stiamo affrontando, magari situazioni difficili, situazioni complicate dove piano piano riusciamo a trovare la soluzione. Adesso andremo a fare un interattivo per quanto riguarda gli elementi del segno, perciò fuoco che riguardano ariete, leone e sagittario e così via. E poi per ogni segno zodiacale andremo a prendere due carte per quanto riguarda il consiglio. Questo è come è strutturato il video. Vi ricordo di guardare il video riguardante il vostro segno principale, l'ascendente, dove si trovava la Luna al momento della nascita, il segno dove si trovava la Luna al momento della nascita, dove si trovava Venere, dove si trovava Giove, appunto perché sono i pianeti diciamo più importanti in quanto la Luna riguarda tutte le emozioni, Venere, bellezza, amore, sentimenti ed emozioni anche e Giove per quanto riguarda fortuna, lavoro, denaro e così via. Diciamo che sono le cose principali della nostra vita, quelle dove facciamo più attenzione. Adesso iniziamo subito con il primo elemento. Benissimo, iniziamo con il primo elemento. Iniziamo con l'elemento fuoco. I segni sono ariete, leone e sagittario. Faremo un interattivo unico per i tre segni appunto legato all'elemento e poi andremo a vedere un messaggio per ognuno dei segni. Andiamo subito a vedere per questo elemento, cioè per i nostri tre segni, che cosa si apre per loro con questa Luna piena in Capricorno. Vediamo un po' qual è la porta che si apre con questa Luna piena per i nostri segni di fuoco. Abbiamo la porta dell'orizzonte. Andiamo a vedere che cosa ci dice questa porta dell'orizzonte per i nostri tre segni. La metto qui così la potete vedere. Vediamo un po' che cosa ci dice. Eccola qua, la porta dell'orizzonte. La parola chiave è realizzazione, obiettivi, punto di svolta, chiarezza mentale, nuovi progetti, appunto quello che porta, diciamo, a livello generale questa Luna piena in Capricorno. La porta dell'orizzonte è una carta molto positiva, specialmente in merito a questioni precise. La carta indica infatti che si avranno le idee chiare, che si sarà finalmente capito cosa si vuole e se si stanno ponendo degli obiettivi. Se la domanda riguarda il lavoro, questa carta suggerisce al consultante di portare avanti senza esitare i suoi progetti e di seguire la sua strada, perché le premesse sono molto favorevoli. Se la domanda riguarda l'amore, la porta dell'orizzonte ci dice che il consultante ha in mente un futuro insieme o ha comunque fatto chiarezza sui suoi sentimenti che sembrano forti e stabili. Niente, in abbinamento all'altra casa non ci interessa. Poi consigli, segui l'orizzonte dei tuoi desideri e fa che non sia un limite, ma uno stimolo ad andare più lontano. Questo è per quanto riguarda la porta. Vediamo adesso, oh, questa è volata via. Vediamo che cosa ci dice. Qualcosa che non sai per l'elemento fuoco, ci dicono i miei oracoli. Magari i segni di fuoco verranno a sapere un qualcosa che in questo momento non riescono a percepire. Allora, vediamo un po'. Non tutto è come sembra. Essere onesti con se stessi è l'amica. Questa, diciamo, è la simbologia generale di quello che porta questa luna piena in Capricorno. Allora, c'è qualcosa che i nostri amici non sanno, perché tutto quello che vedono in questo momento non è come appare l'oro. La realtà non è come appare l'oro. E qua mi parla di essere onesti con se stessi. Cioè, certe volte dobbiamo dare più seguito a quello che è il nostro istinto, ciò che sentiamo. E mi parla di un'amica. Questa rivelazione potrebbe essere la rivelazione di un'amica. Magari un'amica che appare tale, ma in realtà non è. Come potrebbe essere che questa amica invece ci apre appunto gli occhi e noi riusciamo a capire meglio qual è l'importanza che magari in questo momento non le stiamo dando. Andiamo a prendere una carta dei tarocchi per appunto vedere che cosa ci dicono le carte dei tarocchi. Andiamo a vedere semplicemente la simbologia della carta, non un tutto. Per quello che ci vuole dire per quanto riguarda i nostri segni di fuoco. Vediamo un po' che cosa ci dice. Non viene fuori e ce la prendiamo noi allora. Ho il 3 di bastoni. Vediamo un po' la simbologia del 3 di bastoni. Che cosa ci dice? Vediamo questo è il fante. Andiamo a prenderci il nostro 3 di bastoni. Allora, il 3 di bastoni parla di successo e di lungimiranza. Tutte le carte dei 3 dei tarocchi si fanno riferimento all'imperatrice. Cioè una forza creatrice, una forza che guarda lontano potremmo dire che sono le carte del futuro. Il 3 di bastoni è una carta favorevole e positiva. Si può scorgere un uomo alto e robusto che scruta l'orizzonte. Ottimismo, perfezionamento e solidità. Allora, andiamo a vedere il simbolo. Il simbolo su cui dobbiamo riflettere sono le navi. Vedete? Qui in lontananza si vedono delle piccole navi. Vediamo che cosa ci vogliono dire. Le 3 barche a vela che si scorgono all'orizzonte rappresentano pensieri e desideri. Quindi, rimanendo concentrato e destreggiandoti tra le correnti, imparerai a navigare col vento a favore per raggiungere agevolmente la tua meta. Poi abbiamo il perfezionamento. Il simbolo su cui dobbiamo riflettere è la scacchiera. Ah, la scacchiera, questa. Sul manto dell'uomo che ti volge le spalle puoi vedere un motivo di scacchiera. I quadri bianchi e neri rappresentano le vicissitudini della vita. A volte la fortuna ti arride, altre sembra voltarti le spalle, ma rimani fedele ai tuoi ideali. Nessun evento può accoglierti impreparato. Il terzo simbolo su cui dobbiamo riflettere è il mantello rosso. Il manto che incinge l'uomo, come un caldo e confortante a braccio, rappresenta l'autostima. Non c'è intemperia che possa far vacillare le certezze di chi è consapevole del proprio valore. Perciò, quello che ci vuole dire è che se siamo sicuri di noi stessi, niente ci può abbattere. Questa è la simbologia del nostro tre di bastoni. Adesso andiamo a vedere che cosa ci dice la carta del potere di adesso, appunto, di questa luna piena in capricorno. Vediamo che cosa ci dice per i segni di fuoco. Vediamo un po'. Andiamo a vedere che carta andiamo a pescare per i nostri segni di fuoco. Usa appieno i tuoi sensi. Vivi nel punto in cui ti trovi. Guardati attorno. Osserva e basta senza interpretare. Guarda la luce, le forme, i colori, la diversa consistenza delle cose. Se sei consapevole della presenza silenziosa di ogni cosa. Cioè, dobbiamo guardare ed ammirare e poi magari trarre le dovute circostanze. Deduzioni. Non mi veniva la parola. Andiamo a vedere a livello sentimentale che cosa porta questa luna piena in capricorno ai segni di fuoco. Vediamo che cosa porta. Oh, vediamo qua. Dai una possibilità alla tua relazione. Lavora sulla coppia. Qui magari c'è qualcuno di voi che ha dei tentennamenti o magari non sa se intraprendere una nuova relazione oppure rimanere in solitudine. Qua ci dice la carta di dare una possibilità alla tua relazione, sia che siate in coppia o sia che siate single. Per i single la carta sta a significare che dovete dare la possibilità a qualcuno di farsi conoscere prima di trarre le dovute conclusioni. Appunto come diceva la carta del potere di essere presente. Adesso andremo a vedere segno per segno che messaggio c'è per ogni segno di fuoco. Eccoci qua con Ariete, Leone e Sagittario. Andremo a prendere per ogni segno una carta del mio mazzo La bellezza della vita e una carta dal mazzo Le carte geniali. E vediamo che messaggio abbiamo per ognuno di voi. Allora, un messaggio per quanto riguarda il segno dell'Ariete, questa è venuta fuori. Un messaggio per quanto riguarda il segno del Leone, per questa luna piena in Capricorno. E un messaggio per il Sagittario, per questa luna piena in Capricorno. No, prendiamo questa. Troppi messaggi per il Sagittario, mi sa. E adesso andremo a prendere dal mazzo delle carte geniali un messaggio per Ariete, da questa luna piena in Capricorno. Prendiamo soltanto la prima. Ok. Un messaggio per Leone, da questa luna piena in Capricorno. Prendiamo la prima sempre. E adesso passiamo al Sagittario. Un messaggio per Sagittario, da questa luna piena in Capricorno. Vediamo. Prendiamo sempre la prima di questa. Ok. Allora, iniziamo con il segno dell'Ariete, appunto. Vediamo un po'. Il segreto della felicità, imparare ogni giorno a dimenticare tante cose. E dalla carta geniale abbiamo La vita è come un ego. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. Questo è per quanto riguarda i nostri amici dell'Ariete. Passiamo al Leone. Quando fa male, osserva. La vita sta cercando di insegnarti qualcosa. E il nostro messaggio geniale, il nostro corpo è un oracolo. Sii sempre aperto a quelli che possono essere i suoi segnali o messaggi. Facciamo attenzione a quello che il nostro corpo ci dice, amici del Leone. E per il Sagittario vediamo Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. Non è per il Sagittario, questo mi sa. Evita persone e situazioni che ti prosciugano le energie. Bene, cari amici del Segno di Fuoco, questo è il messaggio che arriva da questa luna piena in Capricorno per i nostri tre segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Spero che questo format vi possa piacere. Ho preferito questo appunto perché siamo a ridosso di questa luna piena. E volevo dare a ognuno di voi il proprio messaggio. Vi ricordo di farmi sapere nei commenti se vi ritrovate in queste parole e di prendervi i miei contatti qualora voleste parlare privatamente con me. Io vado al prossimo video e al prossimo elemento.